Raga allora allora questa sarà la prima e l'ultima volta che morirò non so come cazzo sono morto guarda quante ci vai! Morirò al tetto 420 volte Buon salve a tutti gente e benvenuti in un nuovo video quest'oggi e la mia squadra ci occuperemo della seconda e ultima challenge del raid fuori a meccanica ovvero quella del boss finale axis in realtà queste clip sono state registrate circa una settimana fa clip che purtroppo non ho potuto editare per motivi di tempo ma tornando nell'argomento del video la sfida dell'arconte primo consisterà del super caricare i guardiani ad ogni giro di danno scaricando da parte di uno che possiede lo status di vigore la propria elettricità su piastre posta ciascuna sinistra centro e destra in sintesi reologica è la seguente per piastre si intendono quelle dove i servitori tenteranno di sacrificarsi quando axis si teletrasporterà una di queste piastre dove non è presente il boss da stordire verrà illuminata da una colonnina rossa pertanto colui che possiede il vigore della parte dovrà scaricare la propria elettricità posizionandosi sulla piastra e tenendo premuto il pulsante della ricarica dando per scontato che questa azione deve essere compiuta quasi in contemporanea allo stordidamento del boss otterremo la notifica di guardiani super caricati il che caricherà istantaneamente la nostra super per quanto riguarda come eseguire la sfida di axis è tutto per il resto io auguro buona visione il mio corpo c'è stato poco 4 4 4 4 4 3 4 ok ne manca una posizioni 3 Pronti? A tiro? Vai 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 1, 2, 1, vado Perché siamo 3 a sinistra? Ok Destra, destra, scaricato al centro Scaricato Ok, perfetto Ok, sinistra c'è A destra sono io Ok, centro avanti ragazzi Scaricato a destra Oh, perfetto Ok, sinistra c'è Lui a destra c'è Ok, dov'è che manca centro? Vado io, vado io Centro, centro, centro Vado io, ci sono, ci sono Ok, raga sinistra Scaricato al centro Scaricato al centro Raga, bolla con armi, arrivo Ma qua si dobbiamo già fare tutti i danni Sì, con già il terzo giro Vai 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 Ma che cosa? Rianimati Rianimati dopo, rianimati dopo Ma io sei morto Via Guarda che sono molto più Con lo stregone E nemmeno i prostatori riescono a fare Maronna Subi, fai degli scar Che cosa c'è? No Ah, zio merda No ma Ok, eh, Luca Un attimo Il land Io A spadare sono salito Sob sta Luca No, no, no Perché siete delle bravi persone A parte il fatto che lagga Comunque Il tipo che ti fanno salire Sob sta Sì, sono A me è fluido A me è fluido Non avevo fluido Lo stilefro dal centro mi spazzo Ok Ehi, guarda sinistra c'è Centro c'è Non vengo niente No, no, cambia No, no Sono ancora vivo Luca, io sono one shot Luca, fortunatamente se la sono presa con me Oh, solare Sinistra vuoto Sinistra vuoto Oh, vuoto Vuoto a destra Ok, ne manca una Scusate, vuoto a centro, vuoto a centro Vuoto a centro Ne manca una Vai, voi tirate pure del centro, ragazzi Tirate pure del centro Eh, vuoto Ce l'ho io Ce l'ho io Ok, vai, tira, tira, tira Vai, vai, vai A posto, ragazzi Dietro, dietro Ehi, centro, dietro Scarica, a destra Scarico, scarico Scarico Sinistra non c'è Sinistra Sinistra A destra c'è A destra c'è A destra c'è Sinistra, sinistra non c'è Non c'è, sinistra non c'è Ci sono io, ci sono io Ok Centro avanti, centro avanti Scaricate Centro, raga Non c'è Ho scaricato Scaricato Che culo L'ha fatto, l'ha fatto Ok, raga, mi guarda a destra Mi guarda a destra Sinistra c'è Subi Io sto a destra Io sto a destra Centro c'è Mi faccio trafiantare delle tette Sinistra Scaricate Venga Fatto, fatto Vai, vai, vai Andate Cannone Prendete quel cannone Tirate Vabbè Lo prendo io Raga Volla Con luce Vai 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 Raga Vai Raga Ancora un giro Ancora un giro Via, via, via Prendiamo questa Prendiamo questa La più vicina Prendiamo questa Che è quella più vicina Sì, sì Raga Prendete quella che vi capita Prendete quella che vi capita Ma non è illand Non vuoi dire così Non vuoi dire così No raga Quanta poca vita Arco destra Fubi è tuo Ne manca una Sì, sì Faccio io, faccio io qua Ok, in illand ce l'hai Perfetto Ragazzi La sfera a sinistra La carica a sinistra Vabbè A posto A posto Centro avanti Centro avanti Scaricata Scaricata a sinistra Ok, buona Perfetto Vai, vai, vai Raga Non mi tieni sulla testa Ok, ragazzi Ragazzi Usate i cannoni Usate i pochutissimi cannoni Raga Giuro che sto già per togliere la maglietta Yes 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 Give me l'emblema Sì Bella Bella signori Sì Casco Ragazzi Ho droppato il casco Ho droppato il casco Sono Oddio Vabbè ragazzi Io direi anche di salutare YouTube Signori Buon saldo a tutti gente Ah, Chuck 2 Buon saldo a tutti gente Secondo io lost Le bestie amiche tiro saranno illimitate La posizione Pronti Sono caduto Parco 2 Perdonate Edio cane E' No Ma E' Il team tentativo Perfettivamente Mi spacco la faccia Mi spaccano a